Richiama l'attenzione sul quartiere Canalone di Salerno l'associazione dei consumatori help, preoccupata da quello che può accadere in caso di piogge improvvise e consistenti. Per il presidente dell'associazione, Lorenzo Forte, a causa dell'incuria vi è il rischio concreto che la corrente del torrente Fusandola non riesca a defluire regolarmente e si generino pericolose esondazioni. L'associazione ha raccolto le preoccupazioni dei cittadini nel corso del tour dritti al punto viaggio nella Salerno abbandonata. I residenti avrebbero denunciato che sono almeno cinque anni che quell'aria non viene pulita né resa sicura. Sia la foce che gli argini del torrente Fusandola necessitano di un forte intervento di manutenzione e di bonifica. Canalone è abbandonata, pur essendo il cuore e la storia della città di Salerno. Questa strada, Canalone numero due, è totalmente abbandonata a se stessa perché è una zona dove non si arriva con l'auto. I vecchietti, gli anziani, le persone che abitano qui sono costrette ogni giorno a portare i rifiuti giù alla strada a farsi 500-600 metri perché Salerno pulita si rifiuta di venire a prendere i rifiuti davanti a casa, la differenziata. Così come per gli ingombranti, così come per quanto riguarda la posta. È qualcosa di assurdo che l'amministrazione comunale, noi oggi l'abbiamo diffidati con una diffida al sindaco, all'assessore e a Salerno pulita affinché entro i 30 giorni si metta in sicurezza e si riporti dignità in questo territorio. Grazie. 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 Grazie.